Benvenuti amici sulla nuova puntata di TheGamingSavai, sono il vostro Kurgan, oggi sono da solo, senza Jeff, senza Napo, sono qui per giocare con voi i primi minuti di Doom, il reboot del famosissimo sparatutto uscito ormai nel 93, quelli dei tempi del CTRL che si è sparato con CTRL, no tra l'altro era quello sinistro, vabbè. Vi vorrei mostrare lo scatolato del gioco, però purtroppo ho fatto quella cosa orribile di comprarlo in digital download, che tra l'altro vorrei dire una cosa, perché l'ho fatto, perché sostanzialmente tu compravi la copia fisica, nella copia fisica c'era il DVD, c'era l'installer di Steam, cioè ovvero tu lo sei comprato, bravo, mo scaricato, 50 giga, 50, cosa che mi ha portato a dover andare a casa di Fabrizio e di MDL, che prendono insieme, sappiatelo, per sfruttare la loro fibra ottica e scaricarlo in ben due ore, cosa che io ci avrei messo tipo, non lo so, un mese, brava Telecom, una fama la fibra guidonia, vabbè. Banda alle ciance, ciancio alle bande, sto per avviare per la prima volta Doom, non ho proprio mai avviato in assoluto, non so cosa aspettarmi da questo gioco, perché la critica, non l'ho accolta, ecco, vediamo il logo della Bethesda che arriva, come sapete ha acquisito l'AD Software, infatti sta cosa mi fa stranissimo, perché ai tempi, ai tempi la Bethesda non era veramente nessuno, e mo si ha acquisito l'AD Software, se è Pia da Roma proprio, scritte cose, bene, questo mi fa piacere, probabilmente morirò di epilessia, bla bla bla, sì, dichiaro di aver letto, luminosità, queste cose, tutti cazzi, campagna, multigiocatore Snap Map, dovete sapere che c'è una modalità Snap Map, che prende una specie di editor di livelli, dove potrete giocare forse con i vostri amici online, o forse da soli, non lo so, non l'ho ancora ben capita, ma io direi di far partire la campagna subito, fortissimo, non perdere altro tempo, nuovo slot, avvia campagna, ah, ci fa scegliere la difficoltà come ai vecchi tempi, too young to die, era una piccola referenza al vecchio Doom, ma io direi di andare su, fatemi male, ultra violenza forse un po' troppo, incubo, ultra incubo, che bello, partimo forte, Tavolette Corax, che so, tipo una specie di Vangelo de... de Doom, bella Marte, ma tu, ma tu, ci puoi scommettere, sì, che bello, oddio, vabbè, gli intro un po' mi danno fastidio, spero non ci siano troppi filmati, perché... insomma, Doom, dai, fatemi sparare e basta, che cazzo vuole questo? Ah, cominciamo bene, però, no? Boom, headshot! Mortarci tua! Tra l'altro gira benissimo, cazzo! Swag! Swag, bitch, gratata! Oddio, l'effetto blu mi dà fastidio, ah, così mire! Ah, oddio, no, i filmati no, ti prego! Sì, venera una tomba, che è? Sì, vabbè, bravi! Fatemi sparare, fatemi sparare! Noi dobbiamo con te! Vedete che? Mamma mia, quanto è bella sta dura! Io pagherei, bevincela, proprio, vera! L'occhio di Sauron era quello, sbaglio! Oh, diavolo! Eh, casco da Valentino Rossi Librazione completa Ah, swap, tipo su Tinder, bello Tutti morti Bene Offline Ma c'è una cosa che funziona qua Mmm, ok Immagino che dobbiamo riavviare sto satellite Sì, ma quando si spara? Fatemi sparare, fatemi ammazza tutti Hayden Portava le moto, Hayden Ma sapete sì Oh, meno male, c'è qualcuno che la pensa a me Oh Mamma mia, i corpi da scopare Portacci tua Uccisioni epiche Vabbè Carino Sombra divertente No, vabbè, sono fissa Ma ho ripetuto Penso che bello Bellissimo È veramente bello, raga Ah, che gioia Io sono fissa per gli splatter, tipo, gli horror B-movie anni 80 Apri c'è la porta Io vi faccio le uccisioni epiche 10 Ah, un imp Carini Che bello Bellissimo Che cazzo stanno a fare Che cazzo stanno a fare? Che cazzo stanno a fare? Oh Oh, mortascio Sì, di merda Affanculo te Forse qualche caletto dei framerate c'è sta Diciamo che fosse ottimizzato Benissimo Per la 970 Invece a quanto pare no Visto che io ho una 970 GDX MSI Pezzo di merda No, ma chi mena più forte me sa che perdi Mortasci tua Passo troppo Cazzo stanno a scherziamo Affanculo Ah, me ne so accorto Mortasci tua Dammi un'arma 10 Oh, wow Penso il sdoppio Ragazzi Tassci tua Dove stai? Eccole Tana Molto bene Ho sbloccato Asim Bellissima sta cosa Ci sono ste arene Dove tu devi fare un bordello tremendo Sì, me caga il cazzo Non me ne frega niente Sono disposto a prendermi la responsabilità degli orribili eventi delle ultime 24 ore Ma devi assolutamente capire una cosa Il nostro interesse nel loro mondo è l'assoluto più bello dell'immunità Oh, mi è metal Forse dovrei abbassare un po' la musica metal Top Ma che Questi sono matti Per me puoi iniziare un gioco così Che cazzo vuoi di più da un gioco? Che vuoi di più? Io li sfondo a sti demoni Altri 5 minuti Altri 5 minuti Madonna Guarda che cazzo è Si sono regolati Si sono mai regolati Mai regolati Bellissimo Papapapa Parapapa Uum Panna Che grafica Minchia bordello Sti porci schifosi Bello Era proprio vecchio a scuola che cosa dei colpi Tassi tua Tassi Va morì Vanna Affanculo Cazzotti sui reni Ti faccio pisciare sangue Oddio Dov'hai te? Bellissimo sto gioco Che cazzo era? Stupido Mori Chupshot Cuclip Cuclip E' qua E' qua E' qua Oddio La cosa bella è che facendo le uccisioni quelle epiche Recuperi vita No cazzo Non voglio morire Minchia Lol Spaccata Modevole E' qua E' qua Scegli Liscio Ciao Bellissimo Bellissimo sto gioco raga Una ruota incredibile Non è che gira proprio fluidissimo Però Ah voglio provare una cosa Iddqd No Idkfa Non funzionano i chizzi di una volta Iddqd Dai come Idkfa F Questi erano i vecchi chizzi ragazzi Del Dei primissimi giochi Non c'è tipo per Altre cose per inserire Uh Ah non c'è si abbassa pure Inutile Niente direi che abbastanza dai Cioè Intanto abbiamo trovato la chiave Mi abbiamo sparato vabbè Direi che abbastanza Per Per questo video Sembra Sembra una bomba Raga Veramente una bomba Questo era un piccolo assaggio Per Il nostro canale Fatemi sapere se volete Vederne di più Se volete vedere più sangue Ancora più puntale su questo Se me lo devo giocare tutto Qua sul canale Farei un walkthrough Fatemi sapere nei commenti Iscrivetevi Un bacione Dal vostro curga Ciao Bella raga Un video è venuto Mettete un like Se vi è piaciuto Condividetelo Iscrivetevi al nostro canale E mettete un like Alla pagina Facebook Ooooooooh Ooooooooh Ooooooh Grazie a tutti.